Stiamo davvero intervenendo in tanti ambiti, anche mettendo in relazione cose molto particolari. Siamo partiti in Casentino parlando di partecipazione e anche la parte del Medititali e adesso siamo qui a parlare di partecipazione e decreti delegati della scuola per fare l'ambito di una specie di sillogismo, per vedere se ci sono dei punti in comune o punti diversi e ci sono senz'altro punti diversi, ma in tutti e due i casi si parla di partecipazione, partecipazione di qualcuno, di esterno a un certo tipo di mondo per esserci dentro e democraticamente svolgere il loro ruolo. Come noi vorremmo anche per i lavoratori, appunto di partecipare alla vita delle proprie imprese per conoscere non soltanto i momenti di crisi, ma anche per sapere dove sta andando un'azienda, da qual è lo sviluppo industriale, in modo da poter far sentire i lavoratori parte di tutto questo. In Europa già ci sono alcune, in questo senso sono sviluppate alcune situazioni, noi diciamo che c'è anche una modalità, ci può essere una modalità italiana per fare partecipazione e la CES, proprio per questo, ha fatto una proposta di iniziativa popolare che in questo momento è valutata anche direttamente in Parlamento, in audizione. La partecipazione è il fondamento della democrazia, in tutti gli ambiti. Con la partecipazione possono essere ridotti, in termini fisiologici, i conflitti, perché si può discutere prima, si può prevenire l'emergere di situazioni ingovernabili. Terzo obiettivo è quello di rendere solidale sia il gruppo, diciamo, di docenti, famiglie, studenti, che sia l'impresa con i lavoratori. E siccome c'è da fare delle trasformazioni dolorose con la transizione ecologica, se c'è coinvolgimento sicuramente ne riusciamo più forti. La partecipazione dei lavoratori nelle aziende è importante anche la partecipazione dei... Oggi qualcuno li vorrebbe un po' clienti. In realtà gli studenti sono i partecipanti dell'agenzia educativa. Anche la scuola ha bisogno della partecipazione dei genitori e degli studenti. La scuola è stata per tanti, tanti, tanti anni un'entità a sé. Con i decreti delegati si comincia una prima vera e propria democratizzazione, perché i professori col collegio dei docenti da una parte presieduto dal preside e il consiglio d'istituto presieduto invece da un genitore. entrano nella scuola le voci degli studenti e il consiglio d'istituto e il collegio dei docenti è tenuto ad esercitare la sua funzione soprattutto nella didattica, ma tenendo conto di questi elementi. Per quanto riguarda la scuola è un fatto che i decreti delegati del 1974 risalgono a mezzo secolo fa. Il regolamento sull'autonomia scolastica è del 99, il DPR 275, 25 anni fa. Insomma, questa normativa è una normativa che ha rivelato anche la sua inadeguatezza rispetto alla contemporaneità. Le riforme che vengono proposte prendono in considerazione elementi minori, importantissimi ma assolutamente minori. Sto pensando per esempio al ruolo dei tutor, al ruolo degli insegnanti orientatori, all'educazione affettiva e quant'altro. I decreti delegati invece riguardano il primum movens della scuola, riguardano il funzionamento della scuola stessa. È evidente che i decreti delegati devono essere riconfigurati, anche perché i genitori non vengono quasi più. Gli alunni partecipano poco, i collegi dei docenti da quando sono diventati anche un'operazione online, diciamo così, hanno perso anche di vivacità, di motivazione. Quindi i decreti delegati vanno riattivati.